Mi raccomando, signorina, faccia piano, eh. Mi ha preso un'agua fino? Finissimo, comendatore, non si preoccupi. Sì, sì, non si preoccupi, tutte così, voi altre infermiere. Intanto mi hanno ridotto il... sì, la parte, un colabrodo. Lei è la sesta che provo, lo sa? Non so, comendatore, non si preoccupi, è una mano leggerissima. Sentiamo questa mano leggerissima. Ehi, aia, aia, maledetta assassina! Come le altre, come le altre, vada via, vada via, signorina. Signorina, signorina, voi altri siete delle macellaie. Vada via, signorina, vada via, un colabrodo. Pronto? Se tu ti scordi, è andata bene l'iniezione? Ah, sei tu. Ah, sì, sì, da un bel dottore, sì, un bel amico, sei. Come le altre cinque mi hai mandato una macellaia. Una macellaia, cosa vuoi mandarmela a settima infermiera? Eh, no, basta, basta, non ne voglio più sapere. Com'è? Questa volta è un infermiere? Un maschio? Ha uno specialista? Ah, sì? Ha uno specialista, va bene, mandami questo specialista, allora. Imbiegati, fattorini, domestici, camerieri, affini! Permesso? Buongiorno. Buongiorno, signorina. Permette? Eccomi qua. Piano, piano, lei chi è? Chi sono io? Lo vedrete chi sono io. Dunque, io sono atteso. Da chi? Ai, ai, assassini. Avanti. Comendatore, c'è l'infermiere mandato dalla clinica piscisana. Ah, fate passare. Comendatore Discordi? Sì, sono io. Ha ricevuto la mia telefonata? Sì, anzi, l'aspettavo. Mi aspettavo? Oh, gioia, oh, gioia! Allora vuol dire che la mia opera vi interessa? No, un momento, calma, calma, perché io sono diventato diffidente. Io credo che lei sappia i miei precedenti, eh? Eh, sì, grossomodo. Ah, si presentano, io ci so fare, le solite frasi. Solita musica. E appunto, uno ci casca, si lascia convincere e poi, zac, ti rovinano con una sola botta. Comendatore l'ha detto. Ma adesso però le sue preoccupazioni sono finite. È arrivato Antonio Scannagatti. Si alzi. Com'è? Si alzi. Perché che c'è? Sinchini, sinchini. Beh, mi inchinerò al momento opportuno. Piuttosto lei mi dica una cosa. Crede di avere una buona mano? Io. Se io ho una buona mano, commentatore! E allora si accomodi. Cosa dice? Si accomodi. Commentatore, la mia non è una mano. E cos'è? È una più. Non per nulla mio nonno ha fatto il bersagliere. Vede, commentatore, tutto sta nelle introduzioni. Ecco benissimo quello che conta. È l'introduzione. Vede? Le introduzioni sono alla base. Sono alla base. C'è chi fa zazzà, prodotto e via. Io no. Io no. Io no. No, 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 no. Che che? Le mie introduzioni sono dolci. Sono flettile. Sono più mistiche. Comandatore, venga qua. Venga qua. Che c'è? Se io ho una buona mano. Sì. Mi vede? Come faccio a vedere? Carissimo amico. E allora se andaci facciamo la prova, la prima quando? La prima? Si va bene alla prova? Stasera stessa? Stasera stessa? Sì. No, stasera stessa. Bravo. Perfette. Bravo. E dove la vorrebbe fare? Come dove la vorrebbe fare? No, no, perché queste cose se si fanno bene o niente. Dove vuole lei? Non so. Va bene la scala? La scala? La scala? La scala. Chi ha paura? Ma no, no. Ma non vedo cosa c'entra la scala con le... Lei non ci pensi. Prepari la scala. Il resto ci penso io. Va bene, vada per la scala. Vada per la scala. Vada, eh. Commentatore? Ma dove diamo i secchiati? Sono qua. Vieni. Dov'è? E dove va? Commentatore? Eh. E sono qua? Sono pronti? Ma cosa fa con quel bombardino in mano? Per farle sentire l'introduzione. Ma mi dica un po', lei piuttosto cosa fa in quelle condizioni? Ma mi sono preparato, dovevo portogli nei pantaloni. Ah sì? Sì. Lei si è preparata in quel modo per sentire la mia opera? Ma mi dica un po', mi dica un po', lei. E ti scordi o è zazzò? Ti scordi? Ah no? Eh eh. No, per dinci. Eh, zazzogno. Sì. Perché solo un zazzogno si fa trovare in quella condizione, ha capito?